Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Notte d'inferno lungo il tratto abruzzese dell'A14, teatro dell'ennesimo incidente. Un morto e otto feriti, il bilancio dello schianto avvenuto intorno a luna del mattino sulla careggiata Nord tra i caselli di Vasto Nord e Torino di Sangro, nel Chietino. A perdere la vita un autotrasportatore romeno di 45 anni, alla guida del tir che per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso un cantiere finendo contro un rimolchio carico di barriere di cemento. Fatale l'impatto, il camionista è morto sul colpo. Illeso miracolosamente, invece, il figlio della vittima che in quel momento stava dormendo e in cabina. Sarebbe potuto essere un bagno di sangue in quel momento, infatti, alcuni operai stavano lavorando nel cantiere notturno allestito da società autostrade correttamente segnalato per consentire il proseguimento delle opere nelle ore di minore afflusso. A riportare le conseguenze peggiori, un addetto ai lavori di 47 anni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali di Vasto, Pescara e Chieti. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polstrada, la causa dell'incidente avvenuto proprio all'altezza di uno scambio di corsia potrebbe essere stata una distrazione alla guida. Escluso dai primi rilievi che possa essersi trattato di un colpo di sonno, ma per stabilire l'esatta dinamica si dovrà attendere ancora qualche ora. Sul posto il comandante Luca Di Paolo, insieme ai vigili del fuoco e al 118. Uno scenario apocalittico, quello che i soccorritori si sono trovati davanti al loro arrivo con la cabina di guida completamente disintegrata nell'impatto violento col cemento. Un'altra notte da incubo sulla 14, anche se ogni volta si spera sia l'ultima.